Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, buona vista al vostro Hector Elio della Pegna Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostelle Spagnol Weee a tutti ragazzi, aveva allegria, benvenuti alle puntate 85-86 della schedina E oggi mi sono giocato Spezia Sampdoria X2 Però mi avevo giocato un 2 precedente per vedere se vinciamo stasera 94€ Sono 94€, che scherziamo? Forza Sampdoria Poi, niente, volevo dire che mi sono giocato pure che vince Poi a 1 ho messo 1, vabbè, ho giocato pure che vince il Real Betis a una parte X2, a 1, poi la Lega Spagnola, poi il Manchester United che vince, 2 Leverton X2, Newcastle 2, questo è quanto ragazzi? X2 Bene ragazzi, speriamo di vincere, vai forza Sampdoria La Sampdoria stasera faccio i 3 gol a la Spezia che vinco la schedina Dai, dai Bene, a presto la vostra cittoria di un'apena, buona e spintosa Già andiamo con Bustelli Spagnoli A tutti i ragazzi, allegria Posso pure stare senza mascherina, vedete non c'è nessuno, guardate, non c'è nessuno Non c'è nessuno, posso stare senza mascherina, tranquilli Quindi, a presto Vi saluto e vi ringrazio, sempre comunque forzatio Bella a tutti i bari brutti A presto E buona La prima Grazie a tutti